L'esperienza dei più grandi per provare a venire fuori dal periodo più delicato della stagione. Il Monopoli potrebbe chiedere a Pasquale Fazio di stringere i denti e scendere in campo lunedì sera alla nuova Redo Arena contro la Virtus Francavilla, dove la formazione di Roberto Taurino, dopo quattro sconfitte consecutive, si gioca una bella fetta di salvezza. Il difensore è assente da un mese, tre gare in cui la sua squadra non ha conquistato punti. Al suo posto si sono alternati Angileri e Berman, il primo soprattutto non ha convinto con l'errore decisivo nella partita di domenica scorsa contro il Latina. Per quanto riguarda il resto della formazione, forse potrebbe essere accantonato il minutaggio con Bizzotto, che ha superato quota 100 con la maglia bianco-verde, che dovrebbe guidare la retroguardia assieme proprio a Fazio e Ferrini. A centro campo, sulla fascia destra, tutta l'esperienza di Capitan Viteritti, che ha fatto 110 con la maglia del Monopoli. In mezzo al campo, assieme a Derisio, uno tra Iaccarino e Amlili, mentre in attacco ci sono i dubbi maggiori. Grandolfo e Borello non hanno fatto benissimo, così come De Paoli. Per le tre maglie sarà Bagarre fino all'ultimo minuto. Per le tre maglie sarà Bagarre fino all'ultimo minuto.